Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti e benvenuti in un nuovo evento di Rizzolo Education dedicato alle docenti e ai docenti della scuola secondaria di primo grado. Questo incontro, come avrete sicuramente letto sulla pagina dedicata sul nostro sito di Rizzolo Education, si rivolge a tutto quello che è il mondo della didattica dell'italiano, in particolare riguarda alcune riflessioni sull'insegnamento della grammatica italiana basate sull'esperienza decennale dei campionati di italiano, ex Olimpiadi della lingua italiana. L'intervento prende le mosse dall'individuazione di quattro obiettivi formativi della didattica della grammatica e sviluppa le implicazioni didattiche che da essi scaturiscono. Avrò il piacere di dialogare su tutti questi temi con la professoressa Giuliana Fiorentino, che insegna linguistica generale e public speaking all'Università degli Studi del Molise, autrice di numerosi articoli apparsi su riviste nazionali e internazionali, autrice di alcune monografie, ha contribuito alla realizzazione dell'Enciclopedia dell'italiano a cura di Raffaele Simone per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e ha ideato e promosso e diretto dal 2008 al 2020 la competizione Olimpiadi della lingua italiana per le scuole di tutti e tra gli ordini. I suoi ambiti di ricerca, spaziano dalla sintesi dell'italiano all'italiano dei media digitali e alla comunicazione non verbale. Inoltre è autrice di alcuni contributi e volumi di linguistica educativa e di ludodidattica. Benvenute, grazie per essere con noi. Come sempre, prima di iniziare la nostra tavola rotonda, devo condividere alcune informazioni tecniche. Ricordo a chi ci sta guardando che l'evento è registrato e potrete riguardarlo al medesimo link al quale siete collegati. L'attestato sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito, alla pagina Attestati. È noto e importante, i partecipanti e le partecipanti riceveranno tutti i materiali che saranno mostrati e condivisi nelle slide di questa sera. Come sempre, nel corso della nostra diretta sarà possibile rivolgere domande e curiosità alla nostra ospite e potete inserire direttamente il testo nella chat di YouTube. Bene, chiediamo alla regia allora di mandare le nostre slide e partiamo subito con un inquadramento. Parlavamo prima di ragionare attorno a ipotesi e idee sulla grammatica. Ecco, come si fa a stabilire un terreno comune di idee sull'insegnamento della grammatica e soprattutto quali e quanti sono gli obiettivi formativi della grammatica. Allora, grazie innanzitutto. Scusi, prima non sono stata molto reattiva, ma il webinar non è il mio formato comunicativo migliore, ma spero di fare del mio meglio. Dunque, diciamo che è una mia scelta per questo seminario di portare insieme a chi ci ascolta avanti un ragionamento sulla didattica e un ragionamento che deve partire necessariamente da alcune posizioni condivise su che cos'è la grammatica, perché insegniamo grammatica e poi da questo scaturisce come la insegniamo. E all'interno di queste posizioni, soprattutto nel momento in cui ci domandiamo, ma la formula in una maniera molto semplice, colloquiale, ma io insegnante d'italiano perché insegno grammatica, ecco che mi devo porre degli obiettivi, li devo conoscere e in qualche modo devo essermi fortemente immedesimata in questa tipologia di insegnamento, anche perché non è tra le più semplici, le più ovvie. Quindi l'idea era di strutturare questo incontro in questo modo, prima condividere alcune considerazioni di carattere generale e dirò come le ho costruite e poi ci si può discutere. E poi se riesco a convincere chi ci ascolta sull'opportunità o sulla sensatezza di questo terreno comune di idee sulla grammatica, eventualmente propongo alcuni obiettivi. Devo dire che per me sono fondamentali e forse riassumono e includono tutto ciò che c'è da fare nell'insegnamento della grammatica, ma non escludo che qualcuno possa individuare altri obiettivi. Una volta declinati questi obiettivi, spero anche qui di illustrarli in maniera convincente, nelle conclusioni semplicemente tirerò le conclusioni, appunto le somme di questo ragionamento. Andiamo avanti con le slide. Qual è il punto di partenza? La domanda per creare un terreno comune di riflessione stasera è perché insegniamo la grammatica? Per deciderlo dobbiamo capire e avere una definizione di grammatica, una definizione condivisa. Allora io qui farei riferimento a una definizione che risale a uno dei linguisti più importanti del secolo scorso e anche attuale, Noam Chomsky, che parla di grammatica interna e di grammatica esterna. La grammatica interna, sarò molto semplice e sintetica nel riassumere il lavoro di Chomsky su questo punto, per grammatica interna si intendo una competenza, una conoscenza innata rispetto a come è fatta una lingua, come funziona. Si parla addirittura di circuiti neuronali che sono cablati nel cervello. La conoscenza della grammatica e un'ipotesi di funzionamento della lingua, quindi una grammatica interna, è parte del nostro patrimonio genetico. I bambini imparano a parlare la lingua a cui sono esposti, che sentono, diciamo, una volta nati, perché hanno questa predisposizione e imparano senza l'aiuto della scuola, cioè la grammatica noi già la possediamo e abbiamo la competenza di analizzare il linguaggio. Ci sono delle conferme, anche recenti, del 2016, importanti di queste ipotesi di Chomsky. Il bambino impara a parlare, ha una capacità, come lo capiamo, per esempio dal fatto che fa delle, che applica, estende in maniera analogica delle regole e commette degli errori. Per esempio, un bambino italiano che dica facete invece di fate, lo fa perché ha esteso in maniera, diciamo, erronea perché non sa che ci sono delle eccezioni, ma ha esteso in maniera autonoma, spontanea, naturale, una regola di formazione del presente indicativo. Ora, questa grammatica, questa competenza, il bambino l'ha. Quando entra nel sistema scolastico, e questo è il compito della scuola, la scuola può lavorare sulla grammatica esterna, cioè sulle conoscenze, sulla consapevolezza e su una riflessione da portare avanti rispetto all'oggetto linguistico. Ora, questa riflessione può essere condotta in vari modi. C'è un modo, diciamo, che è quello terminale, se volete, cioè l'idea che la grammatica è una disciplina formativa in sé e ha un contenuto fortemente astratto, speculativo, teorico, che tra l'altro si, come dire, si propone bene, si presta bene nella fase, diciamo, nella fascia di età più avanzata, cioè quando il ragazzo arriva alla scuola superiore e magari al triennio e non nel biegno. Ed è, tra l'altro, proprio in questa fase che invece la scuola italiana per lo più abbandona la didattica della grammatica. Quindi questa grammatica esterna, come sapere formale e anche come educazione, ha un ragionamento sulla lingua, si va a stabilizzare proprio quando noi come scuola un po' la abbandoniamo, ma ha questo valore, però deve essere collocato, come dire, nel momento giusto della maturazione dello studente. Se andiamo avanti con la slide. La proposta, diciamo, l'idea e il modo in cui ci siamo arrivati, che in qualche modo si è raccolta in questa esperienza degli Olimpiadi della lingua italiana, poi campionati di italiano, è appunto che invece nella fase precedente lo studio della grammatica condotta dagli insegnanti deve essere soprattutto un percorso di scoperta, di ricerca, di lavoro empirico, di riflessione stimolata dall'insegnante, ma certo non proposta con una serie di regole rigide, meccaniche da memorizzare e da applicare immediatamente in esercizi creati ad hoc, che però, come tutti i saperi mnemonici, rischiano di decadere subito dopo. E in questo, diciamo, un po' l'osservatorio finale anche all'università quando si discute di contenuti grammaticali, di quello che per otto anni, in realtà no, tredici anni la scuola ha insegnato, rimane pochissimo. Allora io vi propongo, cercando di essere anche un po' più leggera nella presentazione, proprio un pezzetto del bando con cui presentavamo le Olimpiadi della lingua italiana, queste parti sono rimaste invariate in quel oltredecennio di lavoro e ricordo che nella fase iniziale, questa iniziativa partita in Molise, dalla mia università, nella prima fase si avvalsa dell'aiuto della collaborazione di molti colleghi, tra cui ricordo il compianto Tullio De Mauro. Ora, quali erano le idee quindi che ancora oggi io proporrei che hanno sostenuto quella idea? Innanzitutto dico subito che le Olimpiadi nacquero proprio dalla constatazione tra noi colleghi universitari anche del mondo della scuola che la grammatica era noiosa e pesante non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti. insegnare grammatica per molti, spero di essere smentita, ma insomma è un momento non facile. Allora, qual era il nostro sforzo? Proprio di portare con le Olimpiadi nelle scuole, riportare l'attenzione e l'interesse sull'insegnamento della grammatica facendo divertire gli studenti e provando a trasmettere ai docenti un'idea diversa di non punto grammatica ma come dirò alla fine di educazione linguistica. Quindi l'idea era sicuramente la conoscenza grammaticale serve per usare correttamente la lingua e ci dobbiamo però ricordare che la lingua non è una cosa astratta ma serve nella comunicazione quindi quando parliamo, quando scriviamo ma anche ovviamente la competenza linguistica sorregge l'ascolto e la lettura, quindi tutte le abilità comunicative. È un sapere importante in sé che diciamo serve a potenziare la capacità di ragionamento ma gli altri due elementi importanti, noi sostenevamo una visione ludica della didattica in generale, diciamo il passaggio per questo momento anche emotivamente più motivante e poi forse il punto più importante che però la nostra idea era di insegnare la lingua e non la grammatica in senso ristretto, quindi la lingua in una dimensione fondamentale che è la sua dimensione di variabilità, quindi considerare la lingua nei vari contesti d'uso, nell'evoluzione nel tempo, nell'evoluzione geografica e aiutare in questo studio della lingua a far emergere proprio questi saperi che hanno bisogno diciamo di un respiro diverso da quello solo della memorizzazione. Andiamo avanti, quindi come ricadeva diciamo queste finalità, come erano declinate all'interno della manifestazione? Scegliendo delle prove, vi farò vedere un esempio dei quesiti delle finali che sono per me la parte forse più innovativa, più interessante, delle prove che erano in alcuni casi risposte, diciamo quesiti a risposta multipla, quindi dove si poteva rispondere, si deve rispondere sì o no in maniera categorica, ma poi questi quesiti delle finali che invece sono dei momenti di riflessione, di ragionamento sulla lingua che venivano proposti e a cui si dava risposta in forma orale dopo una consultazione di squadra, anche questo per noi era importante, che era un gioco di squadra che non necessariamente enfatizzasse la competizione, la capacità, la competitività a livello individuale e all'interno di questi quesiti delle finali era possibile dare una risposta più semplice, ma anche veniva richiesta una motivazione che evidenziasse un ragionamento sulla lingua, un ragionamento che in alcuni casi poteva essere anche andare al di là di alcune di quelle che erano le nostre attese, diciamo di quale potesse essere la risposta esatta, quindi un momento molto interessante. E poi l'ultimo riferimento, i materiali usati erano materiali il più possibile autentici, non materiali inventati da noi, ma materiali ricavati dalla lingua letteraria, ma non solo, dalla lingua d'uso, dei giornali, dai regolamenti, qualunque lingua, qualunque varietà linguistica è degna di osservazione e di riflessione. E anche la possibilità di vedere i materiali, diciamo i brani su cui esercitare attenzione appunto in un contesto più ampio linguistico e non per il più possibile, almeno il tentativo di non lavorare su parole isolate o frasi isolate, perché il senso dell'interpretazione della lingua si applica e si vede e si verifica nel contesto d'uso più ampio. Vi faccio vedere nella prossima slide un esempio di quesito delle finali. Il quesito veniva formulato così, proiettandolo in questo teatro, osservate le seguenti frasi. Marco non è arrivato, avrà avuto un impegno. Oppure la seconda frase, l'anno prossimo vado in Norvegia, e la terza frase, prima o poi andrò in Norvegia. Gli si chiedeva, spiegate in che modo l'italiano esprime o utilizza il tempo futuro e quanti significati esso porrà chiudere. Ora, la soluzione, se la vogliamo vedere insieme, oppure intanto do prima una spiegazione. Quindi la prima frase rappresenta, diciamo, avrà avuto un impegno, non è assolutamente un uso del futuro che rappresenta un'azione che si svolge nel futuro, che è forse la definizione più semplice e immediata che viene data di questo tempo verbale, ma è piuttosto la formulazione di un'ipotesi per la quale, tra l'altro, non c'è da parte di chi la esprime una assoluta certezza. Appunto, è la formulazione di un'ipotesi. Questo futuro si chiama futuro epistemico. La seconda frase mostra un elemento dell'italiano colloquiale, ovviamente, e ciò è quello che si chiama il presente pro futuro. Quindi un'azione che invece sicuramente si esprime, si riferisce al futuro, e lo capiamo dall'aggettivo prossimo, che però invece trova espressione in un tempo presente. Non sto dicendo che è standard, ma di fatto nella lingua colloquiale, ed è perciò il ragionamento sulla lingua reale, autentica, e però un uso che troviamo comunemente nella lingua colloquiale, nell'italiano colloquiale. Prima o poi andrò in Norvegia, è ancora un altro uso del futuro, che non vuol dire che è un'azione che si sta per svolgere realmente, ma è anche questa l'espressione di qualcos'altro, cioè la volontà, un'intenzionalità riferita genericamente al futuro, che non è nemmeno detto che io abbia la convenzione che si attuerà, e si chiama futuro volitivo. Nella prossima slide vediamo come erano rappresentate le soluzioni che venivano date alla giuria, e trovate un po' questo ragionamento. Possiamo andare avanti. Ovviamente la valutazione, il punteggio, veniva commentato dalla giuria e veniva commentato mettendo in evidenza l'esattezza della terminologia, dell'individuazione del problema, magari senza la conoscenza del concetto di futuro epistemico, futuro volitivo, o anche la capacità in generale di ragionare. E noi abbiamo assistito, nei vari anni, nelle varie edizioni, a dei momenti molto belli. Questo era un quesito per le scuole, che io le chiamo le scuole medie, scuole superiori di secondaria e di primo grado, quindi con cui si sono misurati gli studenti di cui stavamo parlando, della secondaria di primo grado. Diciamo, da questa esperienza, da queste considerazioni, dalla bellezza, se volete, proprio di questa competizione, anche del vedere la capacità di considerare, riflettere e tirare fuori delle osservazioni sulla lingua non necessariamente raccontate in un libro di grammatica, insomma, la convenzione che questo insegnamento va affrontato tenendo conto del valore comunicativo, tenendo conto della modalità di ragionamento, di riflessione stimolante, vivace sulla lingua, si è rafforzato. E quindi, ecco perché io concludo dicendo che la didattica della grammatica, ci dobbiamo ricordare, ma lo dicono i programmi ministeriali, che deve essere calata in una visione più complessiva di educazione linguistica, che significa educazione, direi, ai linguaggi e che tenga conto di competenze a tutto tondo. Ecco, infatti, mi piacerebbe rimanere sull'espressione educazione linguistica, perché prima ha fatto riferimento a una delle voci, insomma, più autorevoli che abbiamo avuto nel campo della linguistica, Tullio De Mauro. Le racconto questa piccola nota personale quando io ho incontrato i suoi test e l'università. Possiamo dirlo, la mia vita è completamente cambiata. Per cui, sull'educazione linguistica, secondo me, bisogna ancora parlarne a quello che è il corpo docente, perché vige ancora quest'idea, secondo me, che la lingua sia qualcosa di fisso, cioè anche l'idea stessa di norma. In verità, se noi approcciamo quello che lei ha spiegato, cioè l'idea di una lingua che non è affatto una cosa astratta, ma fa parte di un quadro molto più completo della comunicazione e anche delle sfumature comunicative. L'abbiamo visto prima anche con gli esempi dei tre quesiti da sciogliere. Ci sono un sacco di sfumature che esulano dalla norma, ma possono essere interpretate solo se vengono calate in un contesto comunicativo più ampio. Quindi la lingua, possiamo dire, è anche un oggetto che cambia. Ma le chiedo, secondo lei è cambiata questa visione dell'educazione linguistica negli anni e come si sta evolvendo anche in base alla sua esperienza e a quello che riscontra ogni giorno nel suo ambito professionale? Dunque, diciamo, io dal mio osservatorio, forse anche piccolo, la sensazione che ho è che questa, diciamo, visione di educazione linguistica demauriana e non solo, insomma, poi condivisa da tanti, non abbia ancora mai raggiunto una pienezza di realizzazione, anche perché è complessa, non è, significa una sorta di militanza continua ad avere un atteggiamento di curiosità, prima di tutto nostro come docenti, e poi, ovviamente, da stimolare negli studenti, diciamo, di considerarci degli sperimentatori, degli esploratori, osservatori continui della lingua all'interno degli usi culturali, sociali, di tutte le stratificazioni storiche, evolutive, eccetera, eccetera. Significa a volte avere meno certezze, perché ci sono fenomeni in evoluzione dell'italiano sui quali magari non siamo nemmeno sicuri se a un certo punto diventeranno, verranno fatti propri dalla norma, dallo standard, oppure rimarranno, diciamo, nella periferia o nell'ambito generico dei fenomeni del substandard. Quindi, però, la cosa, diciamo, l'elemento importante è, mi viene, insomma, da dire che su questo ogni tanto, anche per un insegnante, può essere utile. Io, mi pare, nell'ultima slide, ho dato questo riferimento, c'è una rubrica dell'Accademia della Crusca che risponde, diciamo, a quei siti che evidenziano da parte di tanti italiani dubbi grammaticali, professionisti del mondo della scuola, ma credo in generale, e quindi, diciamo, è una questione su cui non c'è da stupirsi che ci possa essere un'incertezza, però ci sono dei riferimenti. Ma i riferimenti, in alcuni casi, se la norma è in evoluzione, possono esprimersi in questi termini. Faccio un esempio di alcune, non lo so, adesso non vorrei essere io troppo purista. È chiaro che ormai il pronome soggetto in italiano per la terza persona è lui e lei. Ho l'impressione che ci potrebbe ancora essere da qualche parte qualche grammatica che possa ancora suggerire egliella, però, diciamo, questa transizione io l'ho vista, cioè l'ho vista, ho studiato su grammatiche dove non si parlava di lui, lei soggetto e adesso mi sembra anche nella manualistica per insegnare italiano agli stranieri che questi pronomi sono presentati come lo standard per il soggetto. Quindi, è chiaro che c'è stata una fase in cui erano usi che sono nati in un livello che non era quello della norma stabilizzata, stabilizzata dalle grammatiche, soprattutto quelle prescrittive, ma che si faceva spazio, dove si trovano in genere le innovazioni più interessanti nella buona scrittura giornalistica che un po' rappresenta la punta innovativa della lingua, però non tutto quello che arriva dai giornali e dai giornalisti poi viene realmente recepito e qui poi sono i parlanti e dell'uso che in qualche modo promuove o meno, perché il concetto della norma è anche un concetto banalmente statistico, se a un certo punto un uso prevale, come dire, almeno i linguisti cedono, qualche volta le grammatiche prescrittive sono un po' l'ultima sponda che un po' resiste, però c'è anche una soluzione intermedia che può essere sapere che esiste un'area problematica della grammatica perché in evoluzione e magari, ecco, alcuni usi eccessivamente innovativi è chiaro che all'inizio non saranno recepiti dallo standard più formale, ma stiamo sicuri che usiamo magari nel parlato senza nemmeno accorgercene e quindi richiamare l'attenzione su questi usi anche con gli studenti significa non dare un'indicazione normativa, ma sapere, io a volte faccio il paragone con i vestiti, esistono i vestiti, chiamiamoli belli, della domenica che si mettono la domenica e esistono i vestiti di lavoro o i vestiti di tutti i giorni più casual che si usano nella quotidianità. Anche per il linguaggio vale la stessa cosa, cioè non sempre la soluzione dello standard va bene per tutti i contesti, ma questa mobilità sui vari registri, sulle varietà, sui vari momenti d'uso è forse il dono, la ricchezza maggiore che possiamo dare ai nostri studenti questa consapevolezza di mobilità su vari ambiti della lingua. Io andrei avanti a questo punto proponendo questi quattro obiettivi, cioè definita la grammatica quindi come conoscenza e riflessione della lingua per uno scopo comunicativo e non finalizzata a se stessa, diciamo propongo quattro obiettivi, quattro declinazioni, diciamo quindi anche che implicano a loro volta la scelta di un metodo, quattro ambiti o quattro finalità su cui mi voglio concentrare. Una prima finalità è diciamo quella che trovate qui diciamo descritta, la conoscenza del sistema della lingua anche in chiave di universali linguistici che possono essere utili per l'apprendimento di una lingua straniera. C'è una parte della diciamo del funzionamento e della struttura delle lingue che è importante conoscere, è importante avere presente perché in qualche modo in un'età più avanzata è lo strumento per passare dalla lingua propria a una lingua straniera. Superata la magica età diciamo dell'adolescenza, l'apprendimento delle lingue ci dicono glottodidatti, cioè gli esperti di apprendimento, acquisizione delle lingue straniere non passa più per una capacità del cervello di acquisire un nuovo strumento comunicativo ma passa molto per la grammatica, cioè noi da adulti quando impariamo un'altra lingua in qualche modo cerchiamo di tradurre nel senso che cerchiamo di trovare delle corrispondenze dalle nostre strutture grammaticali a quelle dell'altra lingua. Quando una struttura grammaticale non c'è nella mia lingua di partenza spesso non la vedo nella lingua d'arrivo. Un esempio l'articolo determinativo non esiste nelle lingue slave in quasi tutta la famiglia delle lingue slave quindi quando un parlante un russofono impara l'italiano non produce almeno inizialmente gli articoli perché come se lui non vedesse questa categoria. Tra l'altro l'articolo non esisteva nemmeno almeno nel modo in cui lo utilizziamo noi nel latino. Allora che cosa suggerirei alle insegnanti? Qui sto cercando di dare un po' delle dritte una sorta di sillabo di cose come dire che devono stare nella cassetta degli attrezzi della didattica della grammatica. Dare un'idea della lingua dare agli studenti e averla noi docenti quindi che la lingua è fatta di categorie però non tutte le categorie sono universali per esempio i nomi e i verbi ci sono in tutte le lingue del mondo ma non tutte le lingue del mondo hanno come noi in italiano gli aggettivi non tutte hanno l'articolo quindi capire che esiste diciamo una possibilità diversa poi di realizzazione nelle varie lingue. Un altro elemento molto generale che io diciamo terrei ben presente è la differenza tra i livelli cioè avere chiaro le questioni che hanno a che fare con la fonetica le questioni che hanno a che fare con la grafia le questioni che stanno nella morfologia quelle che hanno a che fare con la sintasi e quelle che hanno a che fare con la semantica. Se andiamo avanti nella prossima slide ho indicato un po' di questioni e di problemi forse non riesco a soffermarmi su tutti però vorrei almeno concentrare l'attenzione sul problema dei criteri funzionali e distribuzionali. Fin dalla scuola primaria noi insegniamo ai bambini a distinguere appunto a fare l'analisi grammaticale almeno così si chiamava anticamente cioè a distinguere le parti del discorso il nome il pronome la preposizione e in genere i criteri che vengono dati sono il nome indica un oggetto una persona un animale il verbo indica denota azioni e così via purtroppo ho anche un altro criterio utilizzato quello morfologico cioè il nome è una parte variabile del discorso anche il verbo le preposizioni e le congiunzioni sono parti invariabili e così via ci sono due criteri che sono il criterio funzionale e distribuzionale che sono un po' sotto silenzio e che invece sono fondamentali soprattutto in una lingua come l'italiano che è una lingua ad ordine libero degli elementi allora per capire quando la parola dopo è una preposizione o è un avverbio se non si fa riferimento alla funzione e alla distribuzione diventa un po' spiegarli allora che cosa intendo criterio funzionale è che se io dico non aspettarmi arrivo dopo questo dopo ha a che fare con il verbo arrivare quindi la sua funzione è di integrare e specificare insomma modificare il senso del verbo e la sua posizione è subito dopo un verbo tendenzialmente anche senza avere nient'altro dopo oppure continuando con una diciamo con una struttura di frase che non è però collegata a questa parola questa stessa parola dopo però può essere usata come preposizione dopo di te è il mio turno dopo di te oppure dopo l'estate andrò a studiare in Norvegia allora quando la parola dopo va si distribuisce insieme ad un nome e ad un articolo ha la funzione di una preposizione io trovo che all'università gli studenti non hanno nessunissima diciamo idea di queste possibilità di scoprire e di valutare questi meccanismi questi parametri per diciamo per riuscire a individuare le parti del discorso in generale quando non sanno cosa dire dicono che una cosa è un avverbio che è una specie di contenitore come diciamo il contenitore dei rifiuti dove finisce tutto quello che io non so scoprire definire eppure sull'ordine delle parole si basano tanti aspetti interessanti importanti dell'italiano faccio velocemente un riferimento le frasi cosiddette a ordine marcato che non erano considerate accettabili per esempio da Bembo ma che poi oggi sono utilizzate e sono le dislocazioni a sinistra o a destra che come dice la parola rappresentano appunto dei movimenti di gruppi di parole nella frase che fonda diciamo la nascita del volgare italiano saoco che le terre perché le fini che chi contene trent'anni le possette parte santi beneditti c'è esattamente una dislocazione a sinistra so che quelle terre le possedette quindi c'è un'anticipazione del complemento oggetto ripresa da un pronome questa struttura era poi sparita dall'italiano perché tacciata di di non essere accettabile dalla grammatica prescrittiva ed oggi ritorna come faccio a far capire l'esistenza delle dislocazioni se non mi preoccupo e non mi occupo di posizioni strutture e distribuzioni un'ultima considerazione gli avverbi esistono gli avverbi di qualità gli avverbi di modo gli avverbi di quantità ma esistono degli avverbi di frase se io dico questo artigiano che ho chiamato non ha lavorato onestamente vuol dire che il lavoro che ha fatto non mi ha soddisfatto in qualche modo mi sono sentita imbrogliata se io invece dico onestamente questa sera non ho voglia di uscire quell'onestamente è sempre l'avverbio di qualità potremmo dire di modo maniera ma in quella posizione ha un significato completamente diverso sta dicendo io sto dicendo per parlare in modo onesto cioè sto facendo una valutazione attraverso quell'avverbio di quello che sto per enunciare cioè sto mettendo come dire sto condividendo col mio interlocutore il desiderio di essere onesta nella mia enunciazione che viene subito dopo ora queste sfumature fondamentali della lingua che noi da parlanti sappiamo usare ma che possono essere insegnate perché il nostro uso della lingua possa essere comunicativamente più efficace ecco questi elementi si possono individuare se noi introduciamo questa sensibilità questa attenzione ripeto fondamentale per l'italiano di prestare attenzione alla posizione alla distribuzione di certe categorie cioè delle classi di parole nella frase anche le une rispetto alle altre forse andrei avanti per diciamo andare forse un po' più rapida qui avevo immaginato di proporre altre considerazioni perdonatemi se è un po' un po' a pillole questa presentazione era proprio e proprio per stimolare delle curiosità più che dare appunto un'impostazione troppo categorica come si può lavorare sui livelli e quante idee possono venire se si adotta questo metodo un po' di curiosità e di far entrare tutto nella nostra riflessione parlami della i con quelle cinque parole pigolio piatto sciarpa maggio cielo cosa voglio spiegare cosa voglio mostrare che anche a livello della grafia in realtà ci sono tante cose che a volte noi omettiamo di dire quante i ci sono in italiano in realtà ce ne sono almeno quattro diverse la prima è la pigolio che porta l'accento la iltonica che è la vocale dell'italiano ma nella parola piatto la i è una semivocale non è una vocale uguale a quella di pigolio anche se la grafia oscura questo aspetto nella parola sciarpa e nella parola maggio la i è ancora un'altra cosa se io tolgo la i in entrambe queste parole dovrò leggere scarpa e maggio scarpa è un'altra parola dell'italiano ma è una parola inesistente quindi che cos'è la i e come l'h mi serve esclusivamente a guidare la corretta pronuncia e infine cielo cielo in realtà si può discutere l'origine di questa i perché se noi la togliamo la pronuncia non cambia però nella grafia la parola diciamo il nome cielo si confonde con il verbo celare e quindi per una questione di diciamo evitare sovrapposizioni omografie si è inserita questa i ora questo è un modo di ragionare e rapidamente non ho resistito da napoletana questo titolo della frase della canzone di geolier non so come la leggete voi ora io la leggo se la dovessi leggere come lui l'ha scritta soprattutto la seconda parte tu te io non posso leggere tu te con questa vocale di appoggio che è nel mio dialetto diciamo nel dialetto napoletano che si chiama che è una vocale centrale indistinta allora lavorare su una lingua su una canzone popolare che tra l'altro lui stesso ho riportato dei versi della canzone dove invece lui la trascrive quindi altra diciamo questione discutibile che lui o chi per lui ha scritto il testo diciamo ha realizzato la forma scritta la trascrizione ha oscillato cioè ha fatto delle scelte diverse per la stessa sequenza di parole però anche questo diventa una questione un problema che è un problema di tutti i dialetti cioè i dialetti essendo per lo più varietà orali non hanno una stabilizzazione nella grafia e anche ragionare di questo ci porta a capire l'importanza che ha la standardizzazione significa anche dare a una varietà di lingua orale una dignità scritta convenzionale perché la scrittura è come abbiamo visto sulle i è un problema di scelte queste sì fatte a tavolino dai grammatici la grafia è in genere il frutto di una convenzione decisa tra grammatici tra studiosi un ultimo argomento sempre a proposito diciamo di cosa io devo sapere di importante e facendo degli esempi poi specifici il problema del soggetto il soggetto è una categoria grammaticale importantissima importantissima nella decodifica dei testi e anche nella codifica cioè è la guida per capire a me spesso capita quando sento dei discorsi un po' sconnessi che domando chi è il soggetto cioè per dire di chi stiamo parlando allora il problema del soggetto come lo definiamo come lo definiscono le grammatiche ancora alcune grammatiche ma non credo tutte conservano quella definizione molto discutibile che il soggetto è colui che compie l'azione e immediatamente è chiaro che se io dico scusatemi gli esempi del passivo sono sempre drammatici Mario è stato schiaffeggiato dal da un passante è chiaro che non c'è nessuna azione nell'essere schiaffeggiati ma appunto è una cosa che malauguratamente si potrebbe subire quindi immediatamente che cosa vogliamo cosa evidenziamo che queste definizioni basate sulla semantica sul significato un po' per la questione delle classi di parole sono delle definizioni che non sono complete che non sono esaustive e che non aiutano poi lo studente o anche il parlante della lingua italiana a muoversi serenamente sui testi nella decodifica allora quando io diciamo invito a fare attenzione ai livelli della lingua avere chiaro che i problemi sono di natura diversa per esempio nel caso del soggetto l'invito è a non servirsi di non servirsi della semantica cioè dell'interpretazione del significato ma piuttosto appoggiarsi a criteri di tipo strutturale un esempio che mi capita spesso anche all'università ahimè se si propone a uno studente medio all'improvviso a me piace il gelato a pistacchio qual è il soggetto di questa frase la risposta non di tutti ma di alcuni è a me allora io dico e se io dico a me piacciono i gelati alla crema qual è il soggetto di questa frase e insomma lì qualcuno continua a dire a me e qualcuno comincia ad avere un dubbio allora per esempio una grammatica saggia ragiona sulla struttura il soggetto per prima cosa è la parte del discorso cioè o meglio il gruppo di parole o la funzione che governa l'accordo del verbo quindi per capire qual è il soggetto bisogna vedere se io dico a noi piace il gelato al pistacchio il verbo rimane uguale perché il soggetto è il gelato al pistacchio quindi bisogna allenare queste considerazioni di queste proprietà queste proprietà che sono per esempio di natura sintattica l'accordo è una di queste è importante lavorare sul concetto di gruppo di parole di sintagma che è qualcosa che si muove insieme quindi il soggetto è una funzione fondamentale sempre presente con i verbi italiani ad eccezione dei verbi che indicano fenomeni atmosferici ed è l'unico diciamo costituente l'unico sintagma che deve essere sempre espresso tutti gli altri complementi come li vogliamo chiamare argomenti possono più sono più o meno presenti realizzati in base alla tipologia dei verbi e qui però a questo punto siccome vedo che il tempo scorre andrei un po' più avanti e vorrei però ricordare l'importanza del diciamo della della grammatica valenziale che è un tipo di modello che si sta molto diffondendo anche nelle grammatiche scolastiche e che lavora molto su questo discorso di tenere separati considerarli entrambi ma con attenzione alla separazione tra ciò che è strutturale e ciò che è invece nell'ambito della semantica del significato l'altro suggerimento in questo spirito in questo discorso di riflettere sulla lingua e di far scoprire le regole anche in maniera empirica diciamo ai nostri studenti ovviamente è un metodo faticoso e che non è che può essere fatto su ogni argomento però almeno ogni tanto creare questo momento di laboratorio e di scoperta faccio un esempio qui in realtà diciamo le frasi dovevano apparire una alla volta ma insomma queste sono come dire un blocco un kit di frasi che può servire per far scoprire una cosa rarissima dell'italiano che riguarda l'accordo del participio passato allora ve le leggo rapidamente via via spiego il senso delle frasi se io dico Mario mangia Maria mangia Mario e Paola mangiano che cosa posso dire che in italiano il soggetto singolare o plurale determina l'accordo del verbo al singolare o al plurale se io utilizzo il tempo composto con un ausiliare essere scopro che Mario è arrivato Maria è arrivata Mario e Paola sono arrivati non soltanto cambia con questi verbi diciamo l'accordo singolare o plurale con un soggetto singolare o plurale ma che nel caso di un participio passato il participio passato come un aggettivo si accorda di nuovo con il soggetto nel genere maschile o femminile e nel numero nel caso di arrivati però poi che cosa succede che se uso un verbo con l'ausiliare avere Mario ha cantato bene ma anche Maria ha cantato bene non ha cantata e tantomeno Mario e Paola hanno cantato ma hanno cantato bene quindi questo tema dell'accordo si seleziona con determinati famiglie di verbi che hanno l'ausiliare essere ora con il verbo avere quindi non c'è l'accordo e infatti hai visto Mario di recente hai visto Maria di recente hai visto Mario e Paola di recente non abbiamo dubbi l'ultima frase scatena e spero solleva l'ultimo dubbio l'hai visto Mario di recente l'hai vista Maria di recente non posso dire l'hai visto Maria di recente è una frase a grammaticali li hai visti Mario e Paola di recente scopriamo ed è una cosa che incuriosisce sempre molto gli studenti che il verbo italiano che normalmente si accorda con il soggetto nel caso di un'ausiliaria avere purché però il complemento oggetto preceda il verbo con la forma del pronome miracolosamente meravigliosamente si accorda con il complemento oggetto quindi c'è un'eccezione una deviazione importantissima a questa regola diciamo dell'accordo soggetto participio un ultimo esempio di approccio empirico su cui che sta nella slide successiva su cui andrò ancora più velocemente ma che è più adatto alle scuole primarie e che è un esempio che ho preso in prestito da un bellissimo libro di qualche anno fa di Maria Pia Luduca che si chiamava Esperimenti Grammaticali che proponeva proprio il modello del laboratorio di grammatica come un laboratorio come quello scientifico in cui si fanno esperimenti però l'insegnante ci deve preparare questi materiali e questi materiali devono essere forniti via via in una maniera molto precisa faccio un esempio su una scoperta della morfologia perdonatemi invece di imparare tutte le tipologie ed eccezioni dei della formazione del genere del numero dei nomi difettivi di questo di quello vi propongo un esempio come questo si fornisce una lista di parole gatta nonnino nonna stellina stella gattina e si chiede ai bambini di separarli sulla base della forma tendenzialmente i bambini che sono molto bravi e si divertono diranno che in un gruppo ci sono la gatta la nonna e la stella e nell'altro la gattina la nonnina e la stellina oddio c'era il nonnino forse e quindi scoprono che ci sono queste coppie di parole il gatto col gattino la gatta con la gattina il nonno col nonnino la nonna con la nonnina la stella e la stellina per cui da un nome di partenza aggiungendo un pezzetto che si può chiamare tranquillamente col nome tecnico di suffisso si ottiene un nome che designa un oggetto simile ma includendo l'idea che si tratta di un oggetto piccolo quindi un gattino è più piccolo di una gatta il nonnino non è necessariamente più piccolo ma c'è quell'idea di vezzeggiativo e in generale si impara che si fa questo meccanismo che si diciamo si realizza questo meccanismo di derivazione togliendo nel caso del maschile la O nonno gatto e nel caso del femminile la A slide successiva a questo punto però si possono fornire ai bambini anche parole come casettina sacchettino gonnellina per scoprire che il suffisso ino che indica una cosa piccola graziosa può anche combinarsi con un altro suffisso et el che a sua volta contribuisce a questa armonia della grazioso e del piccolo però poi si mostrano parole come giardino mocassino triestino altoatesino e qui bisogna vedere se il mocassino è un mocass grazioso e se il giardino è un giard piccolo no assolutamente perché sono nomi primitivi ma il triestino non è la città di trieste piccolina ma è l'abitante di trieste quindi si scopre che ino in alcuni casi fa parte della radice e in alcuni casi vuol dire una cosa diversa non vuol dire piccolino ma vuol dire abitante se attaccato a un nome di città l'abitante di quella città infine con parole come spazzino attacchino e frullino in bianchino facendo ragionare sul significato spazzino chi spazza attacchino chi attacca frullino e l'elettrodomestico per frullare eccetera eccetera quando il suffisso di rino si attacca a un verbo non vuol dire qualcosa di piccolo ma vuol dire una persona o uno strumento che realizza l'azione espressa dal verbo in conclusione abbiamo scoperto che ci sono tre suffissi diciamo tre usi della sequenza suffisso ino che portano significati piccolo grazioso abitante di una città oppure colui che fa qualcosa espresso dal verbo e avremo ragionato sui verbi e avremo ragionato sui suffissi andando avanti vado verso le quasi conclusioni dirò cosa volevo dire un secondo obiettivo quindi il primo obiettivo è avere muoversi sulle strutture della lingua in queste modalità con approccio empirico un secondo obiettivo è quello più sociolinguistico cioè per diciamo far muovere come avevamo detto all'inizio lo studente sui vari registri contesti eccetera bisogna dare queste nozioni che trovate qui elencate che hanno a che fare con una disciplina che si chiama la sociolinguistica cioè osservare come la lingua cambia in relazione al parlato o allo scritto come cambia in relazione al contesto d'uso facevo l'esempio di ma però che viene utilizzato nel parlato diciamo sanzionato giustamente nello scritto ma lo usava quella anche Manzoni la diastratia cioè la differenza in base a competenze più o meno strutturate rispetto al livello di istruzione la variabilità diatopica tenere conto delle provenienze geografiche e anche quella diacronica andando avanti qui citavo un altro studio in cui per esempio parlando soltanto del livello della ortografia ci sono errori sistematici di bambini di regioni diverse che derivano dalle interferenze con il sostrato dialettale o dell'italiano regionale per esempio l'uso delle doppie o anche errori e usi che hanno a che fare con la sintassi l'altro obiettivo riesco a dire qualche parola gli altri due obiettivi il terzo e il quarto li possiamo considerare separatamente o insieme erano pensare di insegnare la grammatica per aiutare a decodificare testi o anche discorsi o anche per codificarli cioè rendersi conto il punto di partenza qual è la lingua struttura si utilizza per strutturare testi e discorsi i testi e i discorsi sono tali se hanno una coesione la coesione è costruita con la grammatica quindi la grammatica mi serve per leggere capire decodificare i testi e ovviamente la devo mettere in campo la stessa grammatica per costruire io produrre testi coesi quali sono i meccanismi ecco questo è un capitolo di grammatica che io studierei con sistematicità ma dentro la l'analisi e la realizzazione di testi non come principi astratti e io li definisco la foto delle guide che si usano negli aerei per guidare alle uscite di sicurezza la coesione è fatta da una serie di fenomeni sintattici semantici che sono come delle guide che ci conducono nella decodifica dei testi nella slide successiva c'è una lista di questi fenomeni che hanno a che fare con la coesione e a cui bisogna addestrarsi il problema dell'accordo che è quello che abbiamo già visto parlando del soggetto e l'accordo riguarda anche il sintagma quindi il gruppo di parole dove l'accordo si costruisce nella concordanza di genere numero per esempio l'aggettivo con il nome e così via la consecuzio temporum è un meccanismo importante ma conviene studiarlo dentro il testo per capire appunto come sono collegate e raccontate le varie parti di un testo di un capoverso la guida diciamo la referenza in avanti all'indietro anaforica e cataforica cioè capire che in un testo una volta instaurato un argomento per lo più come forma nella forma sintattica del soggetto quel soggetto per alcune frasi si mantiene attraverso dei richiami anaforici cioè i pronomi oppure in una forma lessicale con un sinonimo oppure con una serie di meccanismi imparare a seguire questi punti e capire poi invece quando c'è il cambio di soggetto che è un elemento importante che vuol dire un cambio di prospettiva all'interno di un testo continuare diciamo l'importanza dell'individuazione del soggetto riconoscere riconoscere l'inciso come un pezzo di discorso che sta su una linea narrativa o una linea di discorso separata in alcuni casi lavorare molto sulle congiunzioni ma in linguistica le chiamiamo più tipicamente i connettivi quelli di natura più propriamente sintattica cioè che introducono subordinate coordinate ma anche i connettivi del testo che significano adesso in prima battuta seconda ipotesi per concludere per riformulare per esemplificare elementi di connessione che spiegano la struttura e organizzano la struttura del testo andando avanti questi stessi elementi sono anche quelli che io devo controllare quando produco un testo e poi in questa slide vi propongo ogni tipologia di testo può dare l'occasione di uno studio grammaticale mirato se io studio un testo di letteratura un testo narrativo è l'occasione giusta per parlare con gli studenti dei verbi se mi occupo di testi argomentativi è il punto giusto dove discutere osservare i connettivi nei testi descrittivi si può fare un approfondimento sul lessico i testi regolativi consentono di lavorare su una categoria importantissima che sono i nomi validazione dichiarazione abbattimento e così via andando avanti credo che siamo alle conclusioni ce l'ho fatta vorrei riassumere e racchiudere quindi quello che ho cercato di dire spero in maniera non troppo confusa una sorta di slogan e di diciamo affermazioni finali degli insegnanti di noi insegnanti insegno la grammatica per far comunicare meglio i miei studenti cioè per dargli uno strumento di comunicazione migliore insegno la grammatica anche come sapere formale astratto perché è una disciplina che potenzia la capacità di ragionamento e le capacità analitiche ma la bussola che orienta le mie scelte didattiche relativamente alla lingua è lo sforzo l'obiettivo di costruire competenze linguistiche comunicative degli studenti e possibilmente facendoli esplorare facendoli divertire variando e mettendo sotto gli occhi dalla canzone di Sanremo a un'insegna di un negozio alla Divina Commedia grazie io avrei finito benissimo ho una curiosità in merito a un aspetto che è emerso dalla sua riflessione veramente molto molto ampia quindi insomma le persone che sono qui in ascolto avranno preso tantissimi appunti su tutti gli elementi insomma che riguardano la lingua uno di questi elementi è il registro e in merito alla sua esperienza anche riguardo i media digitali la comunicazione digitale le chiedo se sta notando ha notato una sorta di appiattimento anche nella comunicazione delle nuove generazioni ma non solo rispetto ai registri e secondo lei perché è ancora importante lavorare nella didattica dell'italiano su questo aspetto sì dunque diciamo il digitale ha la diffusione soprattutto delle reti sociali di questa comunicazione molto spicciola immediata ha lati positivi e negativi sicuramente fa scrivere persone che non scrivevano prima se non forse la nota della spesa però le persone che scrivono quando tutti noi scriviamo per ragioni di relazioni sociali all'interno di queste reti ovviamente non ci preoccupiamo della grafia non ci preoccupiamo del rispetto delle regole e tendiamo ancora di più ad abbassare il nostro controllo sulla lingua se prima questo avveniva esclusivamente nel parlato questo rilassamento dell'attenzione della pianificazione sta diffondendosi nella scrittura finché rimane relegato alla scrittura social diciamo ognuno è libero di scrivere come vuole la cosa importante è proprio questa che gli studenti i giovani oggi tendono ormai ad estendere a sovraestendere questo stile questo registro molto colloquiale trascurato poco pianificato che è quel vestito di tutti i giorni che va bene nei social però il problema è che se il loro unico vestito e lo estendono nella scrittura nella comunicazione scritta che esercitano a scuola e un domani in un contesto professionale saranno diciamo ovviamente sanzionati o comunque vuol dire che non hanno sviluppato tutte le potenzialità della comunicazione e del registro e quindi è sicuramente un danno ed è un danno che va colmato proprio riflettendo e confrontando modalità diverse di muoversi e di utilizzare la lingua non so se ho risposto diciamo sì allora noi ci avviamo verso la fine io vi ricordo che se cercate un testo da utilizzare in classe da proporre anche ai vostri studenti come attività c'è un'opera nuovissima che trovate al link in chat si intitola In ottima forma cura di Rosetta Zordani ed è un volume che ha riservato moltissima attenzione al sistema lingua come organismo in continua evoluzione quindi che considera gli elementi di trasformazione che caratterizzano l'italiano attuale moltissima attenzione all'aspetto anche delle competenze linguistiche e sociolinguistiche quindi potete approfondire la scheda del libro cliccando al link inserito in chat e potrete anche sfogliare in anteprima il libro chiedendo al vostro agente di zona il codice di accesso io ringrazio tantissimo le persone che sono rimaste qui con noi e che hanno interagito in chat e ringrazio moltissimo la professoressa Giuliana Fiorentino per questa lezione veramente a 360 gradi sulla lingua e sulla grammatica quindi grazie ancora davvero e noi ci vediamo alla prossima su questi schermi buona serata a tutte e a tutti grazie grazie a lei arrivederci buona serata grazie grazie a tutti